Ah, ti richiamerò più tardi. Parto per Parigi stasera. C'è qualche ragione per cui non dovrei? Non ne vedo alcuna. Mi ha detto che è stato pagato fino alla fine del mese. Ho scoperto oggi che è anche la casa, Lore. Questo e poche migliaia incontanti sono l'eredità del favolosamente ricco Victor Danemore. Cito lei. Ha sempre l'assicurazione. Victor non era assicurato. Non poteva assicurarsi senza che indagassero sulla sua vita. E naturalmente non voleva. Si è mai chiesta quale fosse il mistero della sua vita? All'inizio. Ma ho smesso di chiedermelo da anni. Ho perfino cominciato a credere a tutte le storie che lei ha inventato per lui. Nobile rumeno. Appassionato studioso d'arte. Multimilionario. Ha creato una vera leggenda, Dave. Mi pagava per questo. Come pagava per me. Mi ha mai chiesto chi era in realtà? No. Le donne in genere sono curiose, specialmente le molbi. Anche i giornalisti hanno fama di esserlo. Non era mio marito. A parte la cerimonia, neanche il mio.